video dedicato alla versione finale, la 1.0, della hack di Street Fighter 2 per Sega Master System ho da poco realizzato un video sulla versione precedente, però è uscito a questa e allora ho voluto realizzare un altro video siccome questa hack, in realtà sono due hack, una è la Champion Edition e l'altra è la World Warrior in questo video ci sono i longplay di entrambe le versioni, in descrizione metto il link per passare da una all'altra se volete scaricarlo c'è il link in descrizione e vi metto anche il link di un forum di SMS Power con informazioni riguardo a questo progetto il creatore Exfixium il gioco è identico alla versione originale della Tectoy ma ha una grafica incredibilmente migliorata questa ultima versione rispetto alla precedente contiene modifiche agli stage di Sagat, Balrog e Ken più altre modifiche minori buona visione 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 Vai! Grazie a tutti. Vai! Vai! You win! Round 1! Fight! Round 2! Round 5! Round 1! Round 2! Round 3! Round 3! Round 3! Round 3! You win! Round 2 Buon appetito! 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 FIGHT! You win! Round one! FIGHT! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.